Aperta oggi la prima palestra all'esterno a Trieste da parte del gruppo di Palestra California siamo con Ricky Ramazzina e con Silvio Braico, i patron della struttura. Cos'è questa palestra? Cos'è la differenza rispetto alle palestre tradizionali? Solo la location, in realtà abbiamo fatto una palestra di circa 250 metri quadri attrezzata con tutto l'indispensabile. Quindi in realtà, diverso dalle nostre strutture, è solo la location che è totalmente all'aperto come ci hanno indicato la legge odierna, diciamo. Primo giorno di apertura, dicevamo, soddisfatto della perfluenza il primo giorno? Sì, anzi, anche abbastanza sorpreso perché c'è stato un interesse notevole. Abbiamo ricevuto, a parte la frequenza, che è già stata più delle aspettative, ma ci sono state un sacco di visite di un sacco di ragazzi, anche di clienti non del California. Quindi questo vuol dire che l'interesse era generale, non solo della nostra clientela. Qualche informazione dei servizi, orari di apertura, eccetera, eccetera. Saremo presenti sette giorni su sette, apriremo alle otto del mattino, chiuderemo alle ore venti, alle otto di sera e la disponibilità del... c'è un grosso parcheggio all'esterno dedicato solo a noi, che è il parcheggio privato dell'ipodromo di Trieste, quindi l'affluenza non sarà... non ci saranno problemi di parcheggi, aspettiamo tutti, nella dovuta modalità, però delle distanze. In questo momento non c'è bisogno di nessuna prenotazione. Se dovrebbe aumentare il lavoro ed essere frequentata, purtroppo dovremo creare dei limiti o degli orari. In questo momento però è tutto libero. Inoltre, Ricchi, così importante riguarda oggi, la possibilità delle palestre, si dice, nelle nuove decisioni governative, di tenere aperto anche in zona rossa. Questa è una novità di oggi, appunto, se così sarà, benvenga, perché noi le nostre strutture siamo pronti in qualsiasi momento. Nel momento che ci daranno il via, apriremo anche le strutture nostre, le nostre cinque strutture. Se fosse così, ripeto, benvenga, però se fosse così, parlano di zona rossa, aperte le palestre, allora veramente ci hanno preso in giro per un anno e hanno dato un colpo alla nostra economia che, non so, spero che qualcuno ci metta a mano ai ristori veri perché noi abbiamo subito un danno incredibile. E se i rossi saremo, i rossi apriremo, allora ci hanno preso veramente in giro. Beh, io direi California-Peneiro, abbiamo provato questa nuova realtà, meraviglioso. Si sta l'aria aperta, finalmente si può tornare a fare palestra e anche Stefano Rebbe che perderà la pancia. Venite a trovare Ricchi e Mazzina tutti i giorni qua dell'Ipodromo. Ciao a tutti.